Mi occupo in ARPA di educazione ambientale alla sostenibilità a vari livelli e quindi quando mi è stato proposto il tema della risorsa idrica all'interno dell'Agenda 2030 e quindi della visione di sostenibilità è stato particolarmente sentito come vedete poi alle mie spalle nel mio ufficio è molto sentito ma soprattutto la prima cosa che mi è venuta in mente paradossalmente è il sessantesimo anniversario che si è compiuto il 12 aprile scorso che è il sessantesimo anniversario del volo di Yuri Gagarin a bordo della Vostok 1 ed è il primo quindi uomo si può dire nello spazio. Lo dico in maniera provocatoria perché io ho pensato a questo, all'acqua, perché secondo me in quel momento avviene un cambio di prospettiva legato alla sostenibilità e all'acqua. Infatti Yuri Gagarin dice due cose straordinarie appena in volo. La prima è che da quell'altezza la Terra è bellissima e è senza confini e questo ci ha già un'idea di un cambio di paradigma sono un po' tra l'altro anni pesantissimi di guerra fredda e di confini ma soprattutto la cosa che, e qui entriamo sul tema dell'acqua è che a un certo punto Yuri Gagarin dice il cielo è nerissimo, la Terra è blu. Il fatto che la Terra sia blu per la prima volta cambia la prospettiva dell'uomo di poter osservare il proprio ambiente e il proprio pianeta e in quel momento noi scopriamo che la Terra dello spazio è blu, è una perla blu cioè da quel momento lì entra questa frase di Yuri Gagarin in una memoria collettiva cioè la memoria collettiva che dà origine all'epiteto il pianeta azzurro e il pianeta azzurro è appunto l'epiteto con il quale spesso e giustamente noi definiamo il nostro pianeta Terra. A questo punto parlare di acqua poi senza confini io mi sono chiesto ma di quale acqua parliamo? Quando parlo di acqua di che cosa sto parlando? Di un'acqua dal punto di vista biologico, ecologico, da un punto di vista sociale, economico, politico ecco queste sono le declinazioni che noi potremmo avere molto chiare nella nostra idea di sviluppo sostenibile e secondo me da quel 12 aprile la prospettiva è cambiata anche nell'osservazione di queste cose tant'è che ragionando noi siamo fatti di acqua la prima cosa, la più prossima è che il nostro corpo, noi stessi siamo fatti di acqua l'acqua, come diceva giustamente Rossano, è alla base della vita per come la conosciamo oggi mi riferisco alle missioni spaziali che tanto appassionano me e anche tanti altri in questo momento noi quando cerchiamo la vita o la possibilità di colonizzare altri pianeti in realtà cerchiamo l'acqua perché sappiamo che da lì per come conosciamo la vita che tutto dipende il fatto di aver visto il nostro pianeta senza confini ridà un po' l'idea dell'ambiente come paradigma di pace, di sostenibilità ma averlo visto blu impone all'acqua il paradigma di ambiente in senso totale olistico perché è legato alla storia geologica del pianeta, alla società umane, alla tecnica e soprattutto alla cultura perché alla cultura? perché l'acqua in realtà ci insegna che tutto è un ciclo che gli ecosistemi, l'ambiente, la vita appartiene ai cicli e nella ciclicità noi diciamo appunto la risorsa acqua, risorsa perché risorge risorge perché in questo ciclo ritorna ad essere uguale a prima o almeno dovrebbe essere così non perdendo i propri valori, i valori che appunto sono legati alle molteplici dimensioni con cui l'uomo come dicevo prima si avvicina all'acqua, che diviene quindi il cardine del futuro dell'umanità e della sostenibilità ma il futuro lo forgiamo noi, siamo noi che dobbiamo decidere in quale futuro vogliamo andare faccio un riferimento cinematografico a me molto caro che è 2001 Odissea nello spazio sono partito nello spazio in una casa e quindi cerco di ricollegare questa cosa in una delle prime scene di 2001 Odissea nello spazio di Kubrick in cui una delle grandi tappe dell'umanità sta per essere superata è quando l'uomo incomincia a confliggere con se stesso e lo fa lottando intorno a una pozza d'acqua questo è il cardine del futuro che voglio e c'è da sempre perché e dicevo che la sfida è culturale perché intorno all'acqua ci sono a me piace pensare che ci siano due culture contraddistinte e separate una che è la cultura dell'appropriazione indebita cioè del furto, del prendere dell'arraffare la risorsa e di mercificarla dall'altra c'è una cultura e chiaramente questa è una cultura che genera conflitti dall'altra c'è la cultura della sostenibilità la cultura del condividere e soprattutto la cultura del sostenibile perché sa leggere la vera mi ripeto la vera legge e regola dell'ambiente cioè la ciclicità ecco ritornando all'agenda 2030 sebbene l'agenda 2030 abbia incorporato questo perché guardate bene è una è vero che l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un piano e quindi è un piano istituzionale firmato chiaramente dalle Nazioni Unite alla Coppa che è la conferenza delle parti dove ci sono anche le parti non governative però chiaramente è un piano quello che dobbiamo saper leggere non sono solo i 17 obiettivi e i sotto obiettivi ma è il contenuto che porta a quegli obiettivi ed ecco dicevo che sebbene ci sia una visione che si tenta non voglio fare il non sono particolarmente innamorato dell'agenda 2030 ma ne riconosco grandi come dire ne riconosco i limiti ma anche le grandi le grandi prospettive ecco diciamo sebbene sia legata una visione olistica sistemica dell'ambiente e dell'ecologia quindi le problematiche ecologiche che sono complesse e sistemiche e quindi tenta di smarcarsi dall'affrontare le problematiche ecologiche del terzo millennio solo a temi c'è da riconoscere che però ha usato due SDG chiaramente legati all'acqua il sesto e il quattordicesimo il primo e il sesto che è legato adesso vorrei usare una parola un po' forte però è legato a un aspetto molto tra virgolette politico di gestione della risorsa politico nel senso chiaramente non deteriore del termine in senso alto quindi della gestione ma in chiave sociale della risorsa perché pone alla base quello che è il diritto all'acqua la salute il benessere le infrastrutture soprattutto mette alla base quello che sono le crisi legate alla risorsa etica che è la risorsa quantitativa e qualitativa quindi di quanta acqua è disponibile per i cittadini per le popolazioni ma anche quale c'è acqua inquinata acqua non buone acqua non idonee alla salute al cibo al benessere e questo è importante perché la risorsa idrica è sempre più minacciata dalle attività antropiche dell'uomo e soprattutto anche nel cambiamento climatico si stima adesso non voglio sciorrinare stime che poi si possono trovare aggiornate in continuazione ma abbiamo quasi tra gli 8 e 900 milioni di persone al mondo che non hanno accesso ad acqua potabile molte delle malattie infantili sono legate alla scarsità della qualità dell'acqua dal punto di vista potabile e igienico c'è da dire anche che assistiamo a drammatiche ecomigrazioni dovute a queste due crisi qualitative e quantitative dell'acqua di cui non possiamo essere solo spettatori l'altro SDG che è il quattordicesimo si lega a quella che è la parte potremmo dire che tra l'altro è una locuzione che usano le nazionali è quella della biosfera cioè quella che è legata alla parte ecologica ecosistemica dell'acqua in questo caso come dire è il valore dell'acqua in senso olistico il fatto che la scarsità dell'acqua soprattutto della qualità generi scarsità di qualità del cibo delle risorse dello sfruttamento delle risorse ittiche soprattutto il fatto ecco qui una come dire un pochino di critica all'SDG14 io me lo sento di dare perché viene tutto rapportato in un senso strettamente economico però è vero anche che il contesto in cui viviamo come dire ha una struttura socio-economica molto forte però il fatto che noi viviamo sfruttamenti di stock ittici la qualità del cibo è al centro dell'SDG14 ci dice che stiamo andando in una visione molto ecosistemica parlare di mari è importante anche dal punto di vista non solo del cibo ma anche della nostra salute le famose sei isole di plastica che ci sono nei vari oceani due nell'Atlantico due nel Pacifico una nel mar nell'oceano indiano e una nell'oceano nel mar glaciale artico scusate che sono grandi come nazioni inquinano le acque ma inquinano anche i pesci che poi noi ci rimangiamo c'è uno studio recente che fa vedere come nell'intestino degli italiani quindi non c'è bisogno di andare nei vari oceani a scovare l'inquinamento ma già nell'intestino degli italiani sono presenti le microplastiche che sono veicolate dall'acqua perché l'acqua poi è la soluzione in cui si trasportano sostanze ma si trasportano anche gli inquinanti e ci ritornano indietro noi stiamo già rimangiando i nostri i nostri rifiuti qual è l'idea? solo la monetizzazione del problema ecologico sembra essere riduttiva però una parte fondamentale ecco io proverei come diceva prima Rossano vediamo i due SDG che cosa c'è scritto io credo che sia questo quello che realmente c'è scritto non solo negli SDG ma in tutta l'agenda 2030 io vi proporrei nelle mie attività formative che mi capita di fare quello che è proprio un esercizio di collegamento in realtà proprio perché l'acqua serve a fare le cose è legata alle società anche dal punto di vista millenario serve per produrre il cibo serve per trasportare le sostanze per diluire gli inquinanti per produrre energia per nutrirsi per fare gli oggetti che ci circondano dal vestito al cibo al tavolo fare un esercizio di collegamento prendere tutti gli SDG e incominciare a vedere dove in ognuno di questi 17 punti l'acqua si collega si collega al rischio idrogeologico si collega alle ecomigrazioni si collega alle guerre quello che abbiamo detto prima è già realtà c'è un libro straordinario che vi propongo oltre a avervi proposto magari qualche visione di qualche film un po' vecchio che è Le guerre dell'acqua di Vandana Shiva Vandana Shiva per chi non lo conosce è forse una delle più grandi donne scienziate ed esperte in termini di risorsa idrica e di gestione delle acque lei dice una cosa straordinaria che io come dire ho amato molto in quel libro cioè lei dice che chi minaccia la risorsa idrica la biodiversità ad essa collegata e di rimando chi nega alle popolazioni l'accesso all'acqua quantitativo e qualitativo e quindi privatizzando la distribuzione ma anche inquinando pozzi falde fiumi fa in realtà un atto di terrorismo di terrorismo e credo che questo sia l'ultimo tassello che ci permette di unire l'acqua come paradigma anche di pace e quindi di democrazia di gestione e di pace dall'1 al 17 l'acqua è declinata e questo per questo è difficile parlare di risorsa idrica in agenda 2030 e limitarci solo ai due aspetti che chiaramente sono aspetti formali è importante sapere quello che c'è scritto ma per noi cittadini o per noi cittadini del presente che abbiamo a che fare con questo dobbiamo però renderci tutti conto che è una visione sistemica ecco io credo che sia valga la pena vedere in tutti gli aspetti come viene declinata all'interno dell'agenda 2030 perché ogni aspetto ne rivendica il valore noi non possiamo pensare di fare uno sviluppo alla sostenibilità se non mettiamo accanto alle conoscenze scientifiche al sapere anche un bagaglio di valori e l'acqua ci insegna questa perché il valore è la forza della comunità in cui si ascrive l'acqua è una questione dicevo culturale perché la questione culturale è la consapevolezza del nostro essere umanità di come vogliamo indirizzare il futuro io ritrovo diciamo spesso il senso il valore di queste cose nelle come dire nelle modalità in cui vengono fatte l'educazione ambientale la sostenibilità in un concetto che secondo me è chiave del cambiamento che è il concetto di prossimità cioè noi sappiamo che l'acqua è una sostanza che come diceva il grande primo Levi non ha congeneri e sono simili a se stessa però a questo di pericoloso è che è legata all'uomo e anche alla vita dalla consuetudine dalla consuetudine di molteplici gesti di molteplici usi questa consuetudine però ci ha dato e ci ha fatto credere padroni dell'acqua padroni della risorsa più che di ogni altra matrice ambientale perché nella nostra quotidianità ed ecco la prossimità in ogni piccolo gesto quello di aprire un rubinetto e richiamare a noi le acque più pulite e più buone del mondo per poi noi che viviamo in Umbria lo sappiamo benissimo in realtà ci ha dato una prerogativa che però è molto pericolosa è pericolosa perché ci svincola a volte da questo senso di comunità condiviso e pare che siamo noi padroni ma in realtà quel gesto perché sia così semplice in realtà ha bisogno che ci sia una collettività alle spalle perché quello sia possibile qui come sono stato critico nell'agenda 20-30 vorrei in realtà sostenerlo non tanto nelle sottomisure dell'SBG6 ma accanto alle sottomisure ci sono anche strumenti attuativi indicati con il numero e la lettera al 6B c'è una cosa estremamente interessante che come strumento attuativo si indica come miglioramento della gestione idrica la cito testualmente la partecipazione delle comunità locali ecco credo che questa sia la grandissima sfida dei valori e dei contenuti dell'agenda 20-30 quella di dire so che cosa succede le mie conoscenze aumentano ma la mia capacità di leggere a livello valoriale lo sviluppo sostenibile deve essere questo e quindi coinvolgere anche le comunità chiudo non voglio togliere chiaramente spazio agli altri colleghi però ricordando questo che ognuno di noi ha in mano un pezzo di futuro un pezzo di decisione di come indirizzare il futuro e mi piace citare una tradizione millenaria ho citato prima Vandana Shiva quindi mi piace sottolineare la cultura millenaria dell'acqua che è la cultura indiana-induista in cui si dice che ognuno nella comunità ha l'obbligo e quindi il dovere quindi è un obbligo della responsabilità di quella che al centro della comunità è la brocca sacra dell'acqua a me piacerebbe avere nelle nostre comunità delle brocche sacre dell'acqua intorno alle quali decidere qual è la sorte del nostro futuro e credo che questo è veramente quello che sta dentro a livello educativo e trasformativo dentro l'agenda 2030 grazie spero di poi se ci sono domande in merito poi aspettiamo dopo grazie a tutti Grazie a tutti